La fusione è un atto propedeutico al trasferimento di tutto il gruppo in Sardegna. La nota diffusa dalle aziende che fanno capo alla famiglia Onorato descrive così l'operazione che vede Tirreni e Mobi diventare un'unica compagnia. Un passaggio che il presidente e l'amministratore delegato annunciavano da lungo tempo ma che entro novembre sarà formalizzato. Questo porterà delle ricadute importanti economiche e fiscali sul territorio ed inoltre accompagnerà il gruppo verso quel processo che è già iniziato dall'acquisizione di Tirrenia verso una maggiore sardizzazione della compagnia e negli anni questo creerà con le nuove navi che arriveranno a servire la nostra isola anche dei nuovi posti di lavoro. A oggi il gruppo impiega già 500 sardi sul territorio su un organico di 5.000 impiegati e con le nuove navi che arriveranno in Sardegna che saranno quattro traghetti più grandi green al mondo aumenteranno sia a terra che a bordo l'organico impiegato. La fusione così come la gestione delle tariffe sono stati oggetto di contestazione polemica la prima, secondo alcuni, per la formalizzazione di un sistema di monopolio che vede la ex compagnia di Stato Tirrenia passare ufficialmente di mano e la seconda che la stessa Tirrenia usufruisce di 73 milioni di euro all'interno della convenzione con lo Stato denari che secondo i sindacati non impediscono alla compagnia di prevedere l'aumento dei prezzi per il prossimo novembre. Nel pieno rispetto della convenzione Tirrenia applica le tariffe che sono imposte e non decise da noi da un contratto firmato a suo tempo con il governo italiano. Per quanto riguarda Mobi, in realtà ci sono delle importanti novità perché nel periodo invernale, nonostante la bassa stagione, sono state raddoppiate le corse da Livorno per Olbia. È stata creata una nuova linea passeggeri Piombino-Olbia, questo volta alla destagionalizzazione, all'allungamento della stagione e soprattutto a creare un maggiore network non solo per i passeggeri ma anche per l'autotrasporto. La convenzione tra Stato e Tirrenia rimane comunque nel mirino della politica. Il ministro dei trasporti Danilo Torinelli ha annunciato un suo intervento e la regione Sardegna vuole una volta per tutte entrare nel merito del sistema dei trasporti navali partecipando alle trattative per il rinnovo della convenzione che scadrà nel 2020. Siamo solo che contenti se la regione ha e avrà un ruolo primario e decisionale in questa vicenda.